Salve a tutti amici di YouTube, qui 96th Rastragon insieme alla sua ragazza Salve E niente, oggi mentre giocavamo a Yugi Lei con Blackwing, settembre 2011 se non erro e io Chaos Dragon marzo 2012 Mi son chiesto perché non aggiornare Blackwing alla banned attuale In modo tale che lei possa giocare con i mazzi oderni E niente, poco fa mi sono cimentato nel creare questa lista Abbiate pietà Quindi nei commenti magari non scrivete insulti ma suggerimenti per la lista e le vostre opinioni Blackwing vabbè è stato uno dei mazzi più amati nella storia di Yugi E vabbè oggi vi riporto la lista Quindi 3 Shura, devastanti 3 Bora 3 Kalut che hanno l'effetto molto simile all'onesto Scarti è il mostro targettato Blackwing che guadagna 1400 Un Gale, limitato ai main, mostruoso Doppio Blizzard, perché non 3? Nel gioco 2 perché lo vedo abbastanza lento in questo meta Quindi preferisco mantenermi sulla doppia copia E non su 3 copie di Blizzard Poi doppio Sirocco, era indeciso se giocarlo a 1 o a 2 Però alla fine l'ho messo a 2 Poi uno Steam, uno Zephyros e un Dad che ovviamente non ha bisogno di commenti Poi 3 Vortici Neri Must in ogni alla nera Doppia Duality, non 3 perché rallentano il mazzo a mio parere Poi non so, ho pensato di sostituire, che ne so, un Sirocco con una Duality Però ho preferito tenere la lista così e postarla così Poi un doppio Typhoon, un Book, un Dark Hole e un Allure Doppio Icaro per le trappole Un Delta Crow che è una specie di spoverino delle arpie Poi un Black Sonic che ha un effetto molto simile a quello della Minitor Force Però questa banna se non erro, a differenza dell'ultima citata Poi due Prison, due Fiendish, appunto la Mirror Force, Compulsory Solent Warning, Torrential e Bottomless Penso di non aver saltato nulla nel Main Deck Il mazzo non è molto costoso Anzi direi che è abbastanza economico e facile da fare Le carte nell'extra possono essere facilmente sostituite Vabbè, 101 e Exit... Il tizio che non riesco a pronunciare Che non so come si pronuncia Si, provaci tu Se sei sbagliato ti sbatto fuori Vabbè, possono essere sostituiti anche se Penso, cioè, hanno annunciato che dovrebbero essere ristampati Non fatemi sparare bagianate Quindi, vabbè, evito un Catastor Un Armades Qua un Baxia Biggles pronuncia che non so Black Rose Qua gioco un Monoperdi Messe armature all'armata Poi, vabbè, trago fine oscura Stardust, Direwolf E tizi che ho detto prima Gaga Cowboy Black Ship of Corn E il numero 82 che scomba abbastanza con Vortice Nero Che è appunto la magia continua Target della carta Target, fra virgolette E niente ragazzi Questa era la mia decklist Blackwing Come già detto nei commenti Scrivete qualche suggerimento Non attaccatemi con insulti Vabbè, scherzo Scrivete qualche suggerimento E qualche vostra opinione Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E niente, arrivederci Al prossimo video Sperando in un unboxing Sperando in un unboxing